Ciao a tutti ragazzi, questa qui è la soluzione del livello 75 di 100 floor Qui in alto a destra prenderemo questo piccolo peso Questi qui che stanno in basso li porteremo tutti dalla parte destra Diventerà più pesante la parte destra Prenderemo il piccolo peso, lo metteremo nella parte di sinistra Quindi saranno uguali Adesso non ci basta che mettere in verticale il nostro dispositivo E l'ascensore si aprirà Ciao a tutti ragazzi, ciao